Ah, aiuta! Salvatemi! È falena oscura! Attenzione! Ladybug non ti salverà più? Mia sorella! È in pericolo! Vieni con me? No, l'ha presa! Cosa faccio adesso? Rose, calmati! Ho un'idea! Non c'è niente che possa aiutare! Diventerai Ladybug e sconfiggerai falena oscura! Andiamo! Non piangere! Asciugati le lacrime! Povera sorella mia! Ladybug ci aiuterà! Tieni questa! Ma è come... Lo vedrai! Siamo pronte! Siediti! Ma che succede? Ecco il piano! Ti trasformeremo in Ladybug! Wow! Ma è come! In questo modo! Ecco il nostro piano d'azione! Scommetto che riusciremo a farlo in poco tempo! Lasciami andare! Per favore mettete un like al video! Allora falena oscura mi lascerà andare! Se n'è andato! Evviva! È ancora qui! Di falena! Ora ho qualcuno da aggiungere alle mie foto! Finalmente! Non ho un solo vero amico! Iniziamo il mio piano malvagio! Ti trasformerai in un gigantesco mostro malvagio e insieme conquisteremo il mondo! Sei così buffo! Come osi! Cominciamo con il costume! Provalo! No e no! Forse questo? Niente di tutto questo! Va bene, Kim! Ops! Ho un'idea! Proviamo un nuovo filtro! Cosa? Wow! Scelgo! Questa! Ha funzionato! Palena oscura! Attento a te! Manca ancora qualcosa! Oh! Lo so! Spero che ci sia abbastanza energia! No! Non farlo! Oh! Ora c'è una macchia! Non ho finito! Wow! Che il mio costume è come quello vero! Costume fatto! Manca ancora qualcosa! Sono pronta per la battaglia! Aspetta! Ti serve una borsa come la vera Ladybug! Ok! Questa? Oh, questa! Cosa ne pensi? Nessuna di quelle! Allora, cosa facciamo? Ho un'idea! La ordineremo online! Ecco la consegna! Grazie! È stato velocissimo! Apri! Wow! Non riesco a crederci! È perfetta! Anche meglio di quella di Ladybug! Proviamola! Blaster! C'è! Polpo! C'è! Porteremo solo l'essenziale! Come ci sta tutto questo? Fatto! Che bella borsa! Borsa! C'è! C'è qualcosa qui dentro! È una coda! La provo! Wow! Ora sono Ladybug sirena! Wow! Fantastico! Cambiamo il nostro piano! Fatto! Devo farla arrabbiare! Ma come? I bambini sono così imprevedibili! Lo so! Il mio superpotere! Fai il solletico! Non ha funzionato! Ok! Piano B! Guarda questo bel gattino! È così soffice! Non vuoi accarezzarlo? Non è adorabile? Sì! Che ne dici di adesso? Il gattino ha sparito! Gattino! Cercherò di salvarti! Ho solo bisogno dei superpoteri! Puoi farcela! Ha funzionato! Ciao gattino! Sei il più carino! Diventiamo amici! Cosa? Il mio piano è fallito! Ora facciamo i capelli! Hai bisogno dello stile di Ladybug! Questa tinta è perfetta! Ora aspettiamo! Posso tagliare l'asciugamano? Aspetta! Ci stiamo mettendo una vita! Tempo scaduto! Preparati! Ops! Da dove arrivano queste trecce? Oh no! Mi sono confusa e ho preso la tinta di Marco Ledini! Ma ora rimedierò! Ecco quella giusta! Mi piace di più! Cominciamo! Controlliamo i risultati! Wow! Ha funzionato alla grande! Ladybug è qui per salvare la situazione! Quel colore è perfetto! I tuoi capelli sono a posto! Ho un nuovo gioco interessante! Troom Troom Blitz! Wow! Mi piace! Ho battuto un livello difficile! Ora è il mio turno di giocare! Ti arrabbierei di sicuro! È un aspetto fantastico! Selfie! Aspetta! Cosa? Aspetta! Oh no! Cos'è? I miei denti! Ah! Non preoccuparti! Possiamo lavarli? Ecco a te! Dentifricio per sirene? Perfetto! È così luminoso! Ops! I miei occhiali! Non vedo nulla senza occhiali! Ah! Ecco le mie lenti a contatto! Aspetta! No! Non la coda da sirena! E nemmeno questo! Non sono tue! Ma come faccio a combattere falena oscura? Ecco a te delle lenti che ci aiuteranno! Ti aiuto io! Fatto! Grazie! Oh no! Ora vedo le borse sotto gli occhi! Questi cerotti ti aiuteranno! Fammi provare! Avviai il timer! Vediamo! Non è cambiato nulla! Ho un'idea migliore! Ritaglia una maschera come questa! Provala! La sistemo solo un po' e poi avremo finito! Maschera c'è! Niente più borse sotto gli occhi! Ora disegno! Cosa? Non si disegna qui! Dovresti arrabbiarti! Ora! Per cosa dovrei arrabbiarmi? Anche a me piace il fai-da-te! Sono stufo del fai-da-te! Ok, va bene! Allora mi metto a saltare! Sono la migliore! Ai! La mia testa! No! Non le bolle! I miei occhi! È finita! Non possiamo farcela! Perché no? Guarda le mie unghie! Niente panico! Ho un kit per la manicure! Vuoi provare? È la nostra unica opzione! Sceglieremo il rosso e il nero! Proviamo! Fantastico! Facciamo le altre unghie! Una super manicure per una super eroina! Solo un'altra unghia? Non funziona! Abbiamo finito lo smalto! Non preoccuparti! Abbiamo una foto da usare! È venuta meglio di quanto pensassi! Unghie? Fatte! L'allenamento in battaglia è fondamentale! Ho un'idea! Hai bisogno di lezioni di karate! Oh sì! Ci sto! Colpo? Ferma! Colpo! Cominciamo! Battiti con me! Scusa! Tocca a te! Vai! Fa male! Hai! Mancata! Uno! Due! Uno! Due! Non ce la faccio più! Lavoriamo sul tuo senso dell'equilibrio ora! Attenta! Ops! Ora sono arrabbiata! Ok! Ho capito! Sei pronta! Non ce la faccio più! Non si arrabbierà mai! Giochiamo! Smettila! Ho bisogno di cibo! Salve! Fate consegne a domicilio! Ho bisogno di una pizza! Grazie! Che buon profumo! Che buon profumo! Pizza! Ce n'è una per me? Non c'è più niente per te! Cosa? Io ho fame! Un mostro! Ce l'ho fatta! Ora possiamo conquistare il mondo? Sembri una vera supereroina! Ma io no! Che ti prende? Anch'io vorrei essere una supereroina! Possiamo farlo! Che abiti abbiamo? Questa! Wow! La adoro! Wow! Questo costume è stato fatto apposta per te! Aggiungiamo solo un paio di dettagli! Ecco fatto! Ladybug e Chat Noir pronti per la battaglia! Siamo in diretto da un cinema locale! Guardate cosa sta succedendo! Un vero mostro! Destroge! Credo che questa sia la mia ultima trasmissione! Invito tutti i supereroi a salvarci! Ti batterò, mostro malvagio! Chiaccia! Destruggi! È più difficile di quanto pensassi! Non dimenticare la tua borsa! Usa la tua superoccasione! Una bambola? Come può essere d'aiuto? Bambolina! Sorellina, sei tu! Pagherai per tutto quello che hai fatto! Mi prude la faccia! Dove sono i miei occhiali? Wow! Oh, grazie! Posso diventare un vampiro anch'io? No! Mordimi! Fai un'impazzita! Bene! Sono diventata una nerd! Ashley! Non mordere più persone a caso! Grazie! Ciao, nerd! Stai disturbando la mia aura da vampira! Anche tu sei stata rifiutata! Guarda cosa ho io! Come diventare un vampiro! C'è una guida passo per passo! Zanne, vestiti, morsi, mantelli... Vado a studiare! Posso unirmi a te? Anch'io voglio diventare un vampiro! Ok! Wow! Questa è la tua stanza da vampiro! Da paura! È fantastica! È così... Vampiresca! La adoro! Grazie! Questa è la mia tana da vampiro! Iniziamo la trasformazione in vampiro! Prima di tutto, aspiriamo questi brufoli! Io non ho bisogno di prepararmi! Mi limito a truccarmi! Wow! Funziona! I vampiri non hanno brufoli! La mia pelle è così liscia! Ora, schiuma detergente! Incredibile! I vampiri non hanno le rughe! La mia pelle è luminosa! Cosa ne pensi, Kim? Oh, cavolo! Qualcosa non va! Tutto! Pulisciti! Seguiamo le istruzioni del libro e iniziamo con le zanne! Ok! Ci serve un professionista! Wow! Questo rentista ha così tanti pazienti! Bip! Mister Beast! Persino Elon Musk! Ehi, ragazzi! Pensate che Elon Musk sia davvero un vampiro? Scrivete cosa ne pensate nei commenti! Oh, no! È troppo spaventoso! È una camera di tortura! Questo è il giorno più brutto della mia vita! Io non ci entro! Stai calma! Vado io per prima! No! Ti farà male! Non andare, Kim! Tutto fatto! Cosa ne pensi delle mie nuove zanne? Ora tocca a te! Non aver paura! No! Aspetta! Guarda! Ho già le zanne! Ok! Allora possiamo andare! Cosa stai masticando? Ma dove sono le tue zanne? Josie? Mi hai ingannata? Ragazzi, aiutiamo Josie! Mettete un like a questo video e le zanne di Josie cresceranno! Mi sono cresciute le zanne! Hai visto? Siamo vampire nate! Il prossimo passo sono i vestiti! I nostri abiti non sono esattamente da vampiro! Vediamo cos'ho! Rosso o a righe? No! Non sei la nonna di Dracula! Cos'è questo? Il tuo salvadanaio è pieno di possibilità! No! Mi serve per il college! Ok! Ai! I miei nuovi denti! Questo teschio ha ossa d'acciaio! Da qua! Possiamo aprirlo! Giusto! Ok! Shopping volante! Mi piace il mio nuovo stile! Wow! Ora tocca a me! Mi dispiace! È rimasta solo questa! Cosa? Solo una spilla! Non ti piace? Allora usa i tuoi risparmi! Anche io voglio cambiarmi! Wow! Così va molto meglio! Ok! Abbiamo trovato i nostri vestiti! Il prossimo passo è il morso del vampiro! Andiamo a tentare la fortuna al club! Ho trovato una soluzione! Succo di pomodoro al posto del sangue! Tieni la flebo! Oh! Inganniamo il capovampiro! Fatto! Guardami le spalle! Ciao! Ho pensato che potessi avere sete! Ho del sangue fresco per te! Ce l'hai bevuta! Buon appetito! Eww! Sangue vegetariano! Che cos'è? Guardi mi collo! No! Non ci casco! Vattene! E porta con te il tuo veleno! Perché non è piaciuto? Kim! Vuoi vedere un trucco di magia? Perché l'hai fatto? È solo per la nostra trasformazione! È come un mantello del vampiro! Oh sì! Josie! Sei un genio! Ma anch'io ho bisogno di un mantello! Ok! Puoi averne uno! Il mio mantello personale! Ora siamo super vampiri! Mantello? C'è! E ora! Le lenti a contatto! Ok, Kim! Non avere paura! Infiliamo questo pezzo di plastica direttamente sul bulbo oculare! Voilà! Sono pronta! Oh! Posso averle anch'io? No! Qualcosa di meglio per te! Occhiali con lenti rosse! Wow! La mia vita non sarà più la stessa! Ti piacciono? Spuntiamoli dalla lista! Chi ha ordinato una pizza? Oh! È per me? Grazie! Mordini! Sono deliziosa! Cosa? Cosa? No! Ancora tu! Battene! Come possiamo ottenere il morso del vampiro? Ho un'idea! Possiamo semplicemente risegnarlo! Wow! Guarda! Hai trovato un vampiro e non me l'hai detto? Ha solo trovato un pennarello! Ottima idea! Lo fai anche a me! Bello! Morso di vampiro! Fatto! E adesso? I capelli! I vampiri hanno sempre capelli perfetti! Non come me! Dovrò fare un nuovo stile! Ho uno styler volante! Mi darà dei capelli da vampiro perfetti! Non spirciare! Wow! Questa sì che è un'acconciatura! Ho un accessorio speciale per te! Sono la regina dei pipistrelli! Capelli! Fatti! Oh no! Le mie labbra! Sottili e senza vita! Devo renderle un po' più grandi! Cos'è quella cosa? Wow! Le tue labbra sembrano così grandi! Posso provare? No! Ho un burro cacao per bambini per te! Le tue labbra sono perfette così come sono! Grazie! Stai benissimo, Josie! Anche tu, Kim! Che tipo di accessori indosserebbe un vampiro? Oh! Perle, ovviamente! Posso averle anche io? Ops! La mia collana! Mi dispiace! Ho raccolto tutto! Ok, non ti preoccupare! Posso sistemare tutto in un secondo! Devo solo rinfilare le perle! Aggiungo dei fili per creare diversi giri! Manca qualcosa! Aggiungerò cristalli rossi su un filo da pesca! Poi dipingerò alcune perle con lo smalto rosso! Questa collana è l'accessorio perfetto per i vampiri! Non essere triste, Josie! Ho qualcosa anche per te! Ti piace? Sì, molto! Grazie! Il prossimo passo sono le unghie! Che cos'è? Le tue unghie! Sono un disastro! Ti serve una manicure! Ok, va bene! Mi farò una bella manicure da vampiro! Ti piacciono le mie unghie, Josie? Sono spettacolari! Io invece metterò i guanti! Le mie mani da vampiro! Incredibile! Ora trucchiamoci! Sì, facciamolo! Sei così pallida! Penso che possiamo cancellare le ultime due cose dalla lista! Allora, siamo già vampiri? Devo solo prendere la borsa! Questo peschio sarà perfetto! Ci metterò dentro tutte le mie cose! Siamo pronti a conquistare il mondo? Andiamo! Wow! Che vampire! Vogliamo entrare? Ancora voi! Via da qui! No! Vai via tu! Wow! La battuta! Fermati! Stai parlando con me? Bacio da vampiro! Wow! Il vampiro dei miei sogni! Cosa? Il college? Ma dov'è la festa? Forse è dietro questa porta! Oh no! Stanno per mangiare l'insegnante! Vedi quello che vedo io? Sì! Ciao a tutti! Katrin! Questo è il logo del nostro college! Ogni studente ha uno di questi! Aspetta! Sento un battito cardiaco! Oh no! Ti atterrò il respiro! Credo di no! Benvenuta nella nostra classe! Grazie! Gli studenti si stanno impegnando molto! Il tempo è scaduto! Mettete i vostri compiti sulla mia scrivania! Perché portare i compiti quando puoi usare la telecinesi? Davvero? Katrin! Dov'è il tuo test? Dovrò portarlo a piedi! Oh Katrin! Non dovevi camminare! Che imbarazzo! Vorrei poter usare la telecinesi! La classe dei vampiri sta facendo un esame! Oh cavolo! La mia matita si è rotta! Qualcuno ha un temperino? Un temperino? Avete sentito? I compagni di classe sono chiaramente scioccati! Il signor Draculus ti aiuterà! Cari vampiri! Questa è la leggendaria zanna di Dracula IV! Vederla è un grande onore! Ah e grazie! Ma è solo un temperino! La matita è davvero super affilata! Ma cosa stanno fissando? L'argomento della lezione è il sistema circolatorio umano! Sangue! Ai vampiri viene subito fame! Vi ricordate tutti il modo giusto di mordere? Oh! State morendo di fame eh? È ora di pranzare! I vampiri si godono il loro pasto da bambiri! Meglio legarsi le vene con del nastro adesivo! Nel caso questi spuntini non siano sufficienti! Ai! Una scheggia! Che male! I vampiri percepiscono il sangue umano! Mi serve subito un cerotto! Stuzzicare i vampiri è una pessima idea! Dov'è finita la mia cotta? Sta dormendo! Bene! Ecco il suo armadietto! Svegliati! Ehi! È ora di andare a lezione! Che ora è? Le otto e cinquanta! Ho ancora un po' di tempo! Il signor Draculus ha una penna preferita! Ama dare i voti con il sangue! Carissimi! Ecco i vostri test! Oh sì! Una F! Ha un profumo delizioso! Ha leccato il suo voto! Miammi! Non è difficile da correggere! E quello lo mangi? No! Puoi tenerlo! Ecco i vampiri più famosi di sempre! Mio fratello era amico di Einstein! E Lincoln era un tale burlone! Lo sapevo! E questo è Tesla! Il fratello di mia madre! La somiglianza è sorprendente! Erano davvero tutti vampiri! Sembra che il signor Draculus si sia accorto di un bigliettino! Sara! Non puoi ingannarmi! Ti becchi una F per aver imbrogliato! E dimentica qualsiasi suggerimento! Anche Catherine ha un bigliettino! Cosa sta nascondendo? Ha un bigliettino sullo specchio! Il signor Draculus non lo vedrà di certo! Catherine ha un nuovo girocollo! Ma agli altri studenti non piace affatto! Certo che no! Perché è fatto di aglio! Che schifo! Puzza! È pazza! I vampiri non sopportano questo odore! Stiamo lontano da lei! Questo girocollo sta rendendo Catherine piuttosto impopolare! Il tempo inizia ora! L'insegnante osserva gli studenti come un falco! Le domande sono così difficili! Tempo scaduto! Consegnate i compiti! In questa classe anche una mela si trasforma in un vampiro! Sorveglia la classe! L'insegnante è sparito! Proverò ad aggiungere un paio di risposte! Grazie per il tuo aiuto! Riprendiamo la lezione! Quel vampiro è molto sexy! Vorrei sapere cosa sta scrivendo sul suo quaderno! Di creazione! È la mia occasione! Darò solo una sbirciatina! Il quaderno è volato via! Catherine se n'è andata e ha lasciato il telefono! Guarda queste foto! L'apparecchio per i denti e gli occhiali! Sta tornando! Ma che gli prende? Oh cavolo! Hanno trovato le mie vecchie foto! Cos'è successo? Kate, perché sei così triste? Stanno ridando di queste! Non è nemmeno divertente! Ti faccio vedere una cosa! Ecco le foto della mia infanzia! Anch'io avevo l'apparecchio e gli occhiali! Non vergognarti! Ignorali e basta! Ai vampiri piace scherzare proprio come alle persone normali! Wow! Quel bel ragazzo ha qualcosa incastrato tra i denti! Per fortuna ho uno stuzzicadenti! Un paletto! Tieni! Ti sarebbe lo stuzzicadenti! Oh! Non è un paletto! Grazie ma mi hai spaventato! Ragazzi! Iniziamo! Ma dove sono tutti? Non lo sappiamo! Scusate il ritardo! Questo caffè è per lei! Che schifo! Signor Draculus! Sono in ritardo ma ho la sua bevanda preferita! Ah grazie! Che bel modo di iniziare la giornata! Guarda e impara!